Non mi interessa se sono sottovalutato, io mi diverto a fare allenatore, vado in campo, poi dopo quando smetto di scuola al campo ho altre cose da fare, non sono uno che vive di calcio 24-24, altrimenti mi rincollinerai parecchio. Credo che stia migliorando l'utilizzo del mezzo da parte degli arbitri, non è facile perché è uno strumento nuovo catapultato in un campionato importante come quello della Serie A, però direi che la vara alla fine sono gli episodi oggettivi che sono la cosa più importante che può aiutare gli arbitri. Poi gli episodi soggettivi, a volte uno può dare un rigore, uno può dare un fallo, a volte c'è, a volte non c'è, sicuramente è uno strumento che aiuta l'arbitri e credo che sia una buona cosa per il calcio, soprattutto se viene poi dopo delineato, delineate soprattutto gli episodi dove può intervenire.